musica uè bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video io sono xuder e ragazzi la notizia è di pochissimi minuti fa ufficiale su twitter di epic games domani arriverà su fortnite con il mini update 7.0.1 la nuova spada ragazzi la spada infinita diciamo che si chiamerà più o meno così perché domani mattina scoprirete in un video come mai è arrivato ragazzi l'annuncio quindi porterà questa spada una nuova modalità a tempo limitato quindi una roba che potremo giocare tutti insieme ma voglio farvi vedere il trailer guardate un po' ragazzi che cosa ci spara su twitter epic games se ci fosse anche l'audio sarebbe più figo cattiva così raga cattiva così guardate il castello sembra venga già rivelato così come il villaggio al di sotto di esso e come vedete ragazzi la spada è proprio lì in centro che ci sta aspettando e come vediamo ragazzi nell'immagine successiva bellissima questa spada un paio di mani imbracciano l'elsa 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 credo si chiedica l'elsa e la strappano via ragazzi staremo domani a vedere mi raccomando ovviamente saremo in live che figata noi ci vediamo stasera ciao 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 ciao